passo all'articolo successivo questo è l'articolo io lo dico sempre quando faccio i corsi verso le biblioteche che è l'articolo che tiene in piedi l'attività delle biblioteche perché questo perché se noi torniamo indietro nelle nostre slide torno è volutamente al a questo cioè ai diritti riservati automaticamente agli autori vedete che c'è articolo 18 bis il diritto di noleggiare l'opera e di autorizzare il noleggio o il prestito cioè il prestito è una delle attività riservate agli autori cioè che gli autori possono scegliere o meno di autorizzare e quindi possono scegliere o meno di farsi pagare no l'autorizzazione è sempre data riservata a un unico soggetto il quale ovviamente ne fa mercato cioè decide di mettere o meno a disposizione questo suo diritto a fronte di un pagamento di un introito economico ecco le biblioteche pubbliche grazie a questo articolo 69 possono fare un attività senza dover chiedere il permesso ecco perché è un'eccezione al diritto d'autore chiaro cioè il prestito vedete eseguito dalle biblioteche o discoteche dello stato e degli enti pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto al quale non è dovuta alcuna remunerazione e a ad oggetto esclusivamente gli esemplari a stampa delle opere eccettuati sempre vedete gli spartiti le partiture musicali b i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive decorse almeno 18 mesi della prima distribuzione dopo vabbè c'è un altro comma ve lo faccio vedere dopo però iniziamo a riflettere su questo vedete che il prestito intende solo gli esemplari a stampa voi mi direte vabbè ma adesso abbiamo abbiamo il digital lending il prestito degli ebook sì esiste ma ricade diciamo sotto altro tipo di normativa non è in questo caso perché qua parla di esemplari a stampa delle opere eccettuati sempre gli spartiti i partitori musicali quindi in teoria non dovreste prestarli cioè in teoria non ricade sotto l'eccezione e poi i famosi fonogrammi e videogrammi contenenti opere cioè non so se chi di voi ha anche la mediateca videoteca potete prestarli devono essere passati però 18 mesi della prima diciamo messa in commercio della prima distribuzione questo perché perché si pensa che 18 mesi sia il termine cioè sia un lasso di tempo come dire ragionevole per permettere a chi produce cd dvd vhs nel vecchio mondo le famose cassette vhs per remunerarsi attraverso la vendita delle copie vedete che dice faccio notare che parla delle discoteche delle biblioteche pubbliche biblioteca discoteca dello stato degli enti pubblici cioè vuol dire che se io sono una biblioteca privata di una università privata di un ente privato di una società di un'associazione culturale che ne so di una fondazione non rientro in questo comma in questo articolo quindi devo chiedere licenza per fare prestito cioè le biblioteche private fanno degli accordi con l'associazione editori probabilmente con oppure con dei fornitori di archivi privati per cui acquisiscono licenza pagano un abbonamento per poter mettere in prestito le opere ok quindi voi siete dei privilegiati diciamo su questo in quanto biblioteche pubbliche su questo fronte il comma 2 sempre stesso articolo però c'è un comma 2 dice che per i servizi delle biblioteche discoteche cineteche dello stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione senza alcun vantaggio economico commerciale diretto indiretto in un unico esemplare dai fonogrammi videogrammi contenenti opere cinematografiche audiovisive esistenti presse medesime biblioteche è la classica copia di backup possiamo dire cioè voi potete farne una in un unico esemplare e anche questo è un articolo che ha generato insomma un po di polemiche anche un po di interpretazioni perché questo unico esemplare poi in realtà non lo potete prestare è una roba un po sembra un po leggendo questa norma la logica ci porta a pensare che il legislatore voleva dire consente cioè consente alla biblioteca di conservare la copia originale di un dvd e di prestare la sua copia invece fatta artigianalmente in modo tale che se quell'altro che si rovina se non viene viene perso l'utente non lo riporta indietro e via dicendo io biblioteca ho sempre in archivio la mia copia buona diciamo quella originale invece se poi voi andate a leggere il protocollo d'intesa avi siae associazione delle videoteche e mediateche italiane con siae in realtà non si dice quello cioè la siae non consente che vengano prestati i dvd i dvd copiati o i cd copiati a meno che ci sia un'attività di bollinatura di 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 insomma di riconoscimento da parte di siae della di questa attività di copia di realizzazione di copia e quindi molte videoteche e mediateche hanno trovato particolarmente macchinoso e scomodo questo meccanismo per cui di fatto questa norma è stata un po mutilata nella sua nella sua utilità anche qua non possiamo andare troppo nel dettaglio cercate se volete questo protocollo d'intesa io forse ho messo il link si esatto poi nelle slide lo avrete vi metterò a disposizione slide devo controllare che il link sia sia ancora quello 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 corretto perché effettivamente siae ha cambiato il sito web da poco e quindi ci sono materiali nuovi però ecco questo per farvi riflettere un po su questa attività ecco l'articolo 69 è un articolo che voi bibliotecari dovreste in teoria conoscere a memoria nel senso che dovrebbe far parte anche del concorso di attività di selezione perché è davvero l'articolo della legge sul diritto d'autore che tiene in piedi la vostra attività